...dentro di S.C.M.A.V.O. bisogna presentare presentazioni in merito al senso di una linea, quindi ho ritenuto di presentare questa questione, perché credo che la questione rappresentata non può essere, probabilmente, trattata dal punto di vista dell'epoca, ma deve esserci anche una posizione... ...quindi ho presentato questa mozione proprio perché il Consiglio Provinciale stasera, che permunta il sito, si esprima sulla questione del nostro Stato, ovvero portato dal punto di vista politico. ...e quello che mi rispetto è che la maggioranza del Consiglio Provinciale rivalisca la posizione espressa in campagna elettorale, che ero in posizione contraria alla realizzazione di quest'opera. Grazie. S.C.M.A.V.O. S.C.M.A.V.O. E' completata per noi del meglio quale è la posizione del democratico e della maggioranza, perché questa è la conclusione della stessa città, sottoscritta anche ai consiglieri di Tampoli e a me, e anche ai sali di... Abbiamo detto di completata riprendendo quanto ha succeduto bene la presidenza della stessa città di Tampoli e quanto ho detto anche dalla conferenza stampa che abbiamo parlato proprio negli questi giorni, proprio perché sia chiaro qual è la nostra posizione e cosa pensiamo in questa postata. E' una postata che siamo via ormai in fase cultiva, il progetto ormai esistito, noi crediamo che questo progetto non corrisponda, che la postata del senso non corrisponda a poter essere più sostenibile che noi abbiamo questa provincia. Non voglio chiedere, ricorda che è già presente, mi limito se siamo accorto a dire c'è nel mondo che possiamo significare l'azione del Consiglio di Serra. Allora, per sfuggeremo, ovviamente tutto, gioco la parte che è recita, dal dato che la considerazione fondata dal contatto con i nostri comuni non può essere considerata in realtà che non è solo che le condizioni dell'azione del territorio e non può essere considerata in realtà che non è solo la comunità del territorio, e per qualsiasi capitale è capo dell'attività di Milano, per di più, la nuova costata non serve per sopravvivere il nostro territorio di Milano di Milano e nemmeno il fine del modo di montaggio che si verificano la necessità di che oro. Il compenso porterà un anno con l'euro al sistema di distribuzione di qualità, con la preghiera di non vissi niente di cui dirà, che sia per capo di rete che di rete, ad esempio la grazia del sistema del ciclo dell'euro. Chiediamo quindi di modificare anche la parte che prevedeva appunto l'impegno rivolto al Presidente e alla giunta della provincia, che secondo noi è un problema elementare, il Presidente della provincia di Fabia si impegna a un'unità di iniziativa tecnica e politica attesa alle evidenziate tutti i limiti di sostenibilità tecnica e economica e ambientale di un'unità di iniziativa tecnica e politica. Grazie. Devo dire, se lo vuoi dire, il Consiglio del Senato che mi pare sia stato preventivamente valutato questo documentamento, qual è la prova ai vostri? No, io intendo importante che ci sia una convergenza della maggioranza con un documento in cui dica chiaramente che il progetto della vostra domini non dà terra vociare. Quindi quando mi riguarda alcuni modifici proposti dagli altri gruppi di maggioranza. grazie. 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 che si è arrivato a questo punto, credo anche che ci sono stati delle conferenze che si ammissi. A un piano di partecipato di un tema di protesta, quello di comuni, quello di specializzazione di gruppi, che chiamano spesso un paere favorevole. Un qualche soggetto che mi mette di nuovo in un'articolosa che vedono un paere, che mi ha sentito tutto, solo c'è di questo e di questo, 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 queste modificazioni sono state notizie per una visita. Io passo iba in un'altra, la condizioni che si ammissi direi sua lista, o significato della pensione pat prevalentemente. Eberti line. E che mi entrava a fare su queste modifiche ammissi si fa partecipare 1 stradale. Ci sono entr Postin прав di maggioranza , che ha 도lato a parlare di 할�iedomi. Per esempio, io sono curiosa, se questo è il mio gioco, non so, 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 ma questo è un angelo, perché è una parola avanti, ma non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, 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 non i problemi della gente, rappresentati direttamente dai suoi problemi, ma al fine di modificare il progetto definitivo, non rinunciarlo. E chiediamo inoltre, proprio a qui, che presentavo il re, che nemmeno di fare questa abitudini alla pubblicazione sociale, un'accordo interna per la presentazione delle situazioni. Chiediamo se alcuni rinunciano poi, quindi a chi si assiede la risultata dell'ambiente, che si buscate sui problemi. Grazie. Grazie, consigliere. Ci sono in questa fase ancora di discussione, perché eventuali vi chiedete molto a di carenette, e quindi ci crede... Scusate, scusate, scusate. Forse, per esempio, vorrei una cosa che non ci siamo... Sì, voglio dire che la rinunciata è sotto un video di quattro giorni, in prova, perché è la situazione di sottili, a 60, per essere un anno più in santa, ma un manager è un programma di conferenza di Sennacet. Per la presentazione di una situazione della capacità, e della domenizione, ci sono un primo intervento di seguita, e quindi si è un'unica in 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 un'unica. Grazie.